Ok, ciao ragazzi! Ok, ciao ragazzi, ciao! Ho l'onore di intervistare Lambre Benedetto! Ciao a tutti ragazzi, sono venuto qui a trovare Fabio Bergomi e voglio rispondere a tutte le domande che vuoi. Non abbiamo preparato niente prima, siamo stati un attimo a pranzo. Fammi tutte le domande che vuoi e io ti rispondo, tutte le tue curiosità che hai nei confronti di Lambre Benedetto. Allora, secondo me, io parto da una mia idea che mi sono fatto conoscendo. Lambre Benedetto è molto di più di ciò che è il personaggio Lambre Benedetto. Sei d'accordo? Ma nel senso che comunque noi siamo andati a pranzo insieme e sicuramente tu ovviamente avrai capito, essendo una persona intelligente, che io nei video faccio Lambre Benedetto, non sono Lambre Benedetto. è come se uno paragonasse, non so, Paolo Villaggio con il personaggio che lui ha creato di Fantozzi, oppure Antonio Albanese, Antonio Albanese mio concittadino, Antonio Albanese non è Cettola Qualunque o Alex Drastico e la gente non l'ha ancora capito. Io faccio Lambre Benedetto e molte volte faccio il Pirla, ma non sono Pirla. E questo è il punto. Lambre Benedetto è un format web che ha sfondato. Cioè nessuno è riuscito, secondo me, nel panorama web a fare quello che ha fatto Lambre. Nel senso che, lo chiedo a lui, andare in giro, fare certe cose, viaggiare, riportare, trovare un pubblico di riferimento e andare a scandagliare le cose che tu scandagli e riportare l'uomo comune, secondo me, a parte che meriterebbe un premio, ma è un lavoro durissimo ed esemplare, che è figlio, e qui te lo chiedo, ecco perché prima ti dicevo che Lambre Benedetto è molto di più di Lambre Benedetto personaggio, perché è figlio di una formazione che evidentemente tu hai dentro. E quindi possiamo anticipare qualcosa o raccontare qualcosa di Lambre Benedetto uomo? Che cos'è? Come hai fatto a diventare Lambre Benedetto? Che cosa sono? Perché poi un uomo ha delle cose sue che trasforma, sì, in Lambre Benedetto personaggio, ma anche in Lambre Benedetto persona, non personaggio. Che cosa li accomuna? La forza, la grinta, l'organizzazione mentale, la curiosità, la forza? Allora, quando sono partito, diciamo, con il mio primo video di successo, che è stato italiano, adesso che parli ancora, pensavano che Lambre Benedetto era un fenomeno che durasse veramente poco, e invece si sono completamente sbagliati, perché io ho la forza anche, diciamo ti dico la verità, nei momenti in cui mi davano per finito, ho tirato fuori l'Albania, cioè e oggi se migliaia di persone vanno in Albania è perché Lambre Benedetto ho fatto vedere Xamile, quelle zone lì, ho tirato fuori Napoli per modo di dire, ho tirato fuori le Canari, ho tirato fuori la Spagna, ho tirato fuori la Svizzera, ho portato, la gente non ha ancora capito, ho portato dei modi, degli slang che oggi stanno diventando comuni anche nel mondo del bodybuilding, oggi parlano tutti di spruzzati, di tacchinella, yogurt greto, prima non ne parlavano, ho iniziato a tirare fuori i termini inventandomi praticamente delle gag, cagacazzi, tombine a livello, anche se Lambre Benedetto magari mi inventerò sicuramente delle altre cose. cose importanti per cui ti fai riconoscere, nel senso che poi il web, amico mio, deve essere anche parli con un pubblico che comunque ti segue, non posso sul web, vorrei anche parlare di automazione industriale, di cover a warrant o di short sul fuczy, però sono cose che ci siamo parlati un po' prima, sono rimasto storto, ma non anticipo nulla perché poi l'intervista. Ok, vorrei parlare anche di queste cose, però so che un pubblico ogni tanto mi diverto a parlare di geopolitica, io vorrei sempre parlare di geopolitica, anche di sistemi però alla fine anche io devo scendere diciamo terra a terra e fare un po' il Lambre Benedetto che è quello che si incazza in mezzo, i tombini, poi il mio canale ha un migliaio di video con musei, però cosa succede? Ho diversi video di musei, museo della scienza della tecnica, museo della seconda guerra mondiale museo delle auto, castelli, però alla fine ti guardano molto di più se scendi terra a terra quindi anche io devo essere un personaggio molto più basso. Io sono molto eclettico per quello che comunque a differenza di chi fa solo il game player e magari rischia di scomparire io se dovessi, ti faccio un esempio, se io dovesse andare a Roma a far vedere il degrado che ce n'è a mare, verrebbe fuori un macello a livello web, però solo l'Hambre Benedetto lo può fare anche perché ha un modo di fare, ha un modo di fare, ha una fisicità che in questo momento non si vede sembro più basso di te, però sai che io sono alto quasi un 85, è un modo di fare che non è copiabile molto è tentato di copiarmi. Sì? Sì, vabbè, è chiaro. Com'è difficile sopportare il fatto di, dicevi, di doversi adeguare al tuo pubblico quando invece vorresti magari far uscire il personaggio, non il personaggio, scusa, la persona l'Hambre Benedetto. Prima io sono rimasto con l'Hambre a mangiare, mi ha fatto vedere le cose in borsa che io sapevo ma le ho toccate con mano e sono rimasto colpito, non perché pensavo che fosse un pirla anzi ma proprio perché a volte spiace doversi, tra virgolette, appiattire su un personaggio, no? Nel senso, quanto ti piacerebbe veramente, magari non tramite il web, magari tramite altri luoghi anche fisici poter parlare d'altro? Oppure quant'è la voglia di trasferire altro, oltre al discorso dell'Hambre Benedetto? Beh, sul web non è facile, ma la televisione poi non ne parliamo perché è una presa per il giro dove è tutto precostituito e dove ormai ci vanno quattro pensionati a raccontare quattro cretinate. La voglia sarebbe tanto, però sai benissimo anche te che non è facile fare il personaggio, diciamo, cioè trasmettere certi concetti si possono trasmettere solo ad un pubblico di persone le quali sono portate per ascoltare queste cose, altrimenti non ti ascolterebbe nessuno. Come fa una persona a sfangarsela, come si dice, a cavarsela in un mondo DM, diciamo, così non diciamo neanche le parolacce, come in questo momento, perché secondo me le prospettive non sono buone, io non sono un pessimista, eccetera, però come si fa? Cioè, perché io vedo, mancano gli, tra virgolette, educatori, non possiamo più fidarci dei giornali, in tv non ti fanno parlare, sono stato anche io in tv, che sia l'intero parlare di altro non puoi parlare. I giornali, i mainstream, non puoi dire nulla, i genitori sono assenti, a scuola, non parlo da scuola che dovrebbero buttarle giù, e lo dico da padre, ma quanto ti piacerebbe parlare ai giovani faccia a faccia, seriamente? Ti piacerebbe crescere una generazione un po' diversa? Eh, sarebbe bello, il problema è che per esempio la televisione fa solo disinformazione, ed è allucinante. pensiamo a, cioè, pensiamo a Sean Penn che è andato praticamente, era ospite in televisione in America, e gli ha detto ringrazio Ceni e Bush di aver creato l'Isis, e la televisione italiana, anzi italo-americana, in questi giorni ci stanno raccontando che gli americani hanno sconfitto in Siria l'Isis, cioè, pensate la comunicazione che sta facendo in questo momento molte televisioni, praticamente tutte, non hanno minimamente nominato che l'Isis è stato sconfitto dalla Russia in Siria, cioè, pensa cosa stanno passando, pensa che livello di disinformazione c'è in questo momento a 360 gradi, stanno facendo passare situazioni come se in questo momento i mercati stanno andando male a livello finanziario, la gente ci sta perdendo soldi, peccato, peccato che si può speculare a ribasso, queste cose non le dicono, e la gente ci sta arricchendo con strumenti che potrebbe anche utilizzare il popolino se non passasse tutto il tempo a giocare al bagno Mariuccia con le biglie, ma nessuno glielo spiega, nessuno glielo spiega, nessuno glielo spiega, e quindi cosa succede? Succede che noi siamo a 360 gradi nella totale disinformazione, con quattro pensionati che sono in televisione, arricchiti e che ci raccontano e fanno semplicemente del populismo, ma non fanno informazione, la televisione dà una vita, non fa informazione, assolutamente, noi pensiamo che certi servizi scandalistici, ma chi come me ha girato il mondo sa che vi stanno raccontando un mare di cretinate, un mare di puttana, hai capito? Che sia la piccola cosa, i ribasi corona, che sia la grande notizia, ma non mi interessa, quelle fanno parte dello show per l'amor di Dio, e Jim Carrey che è andato in TV in America, Ma questi riescono a farti passare un colpo di Stato finanziato dalla FMI, dalla BCE, dai soliti noti, chissà come mai quando poi parli di queste cose che ti invitano nelle trasmissioni televisive, magari su canale, osi nominare dei nomi, chissà come mai, basta, da lì non ti chiamano più, peccato che oggi il web è molto più forte, la gente cosa pensano? Che noi italiani siamo tutti rincoglioniti? Cioè non siamo tutti rincoglioniti, ok? Allora a me piacerebbe sempre solo fare informazione, parlare di certi tipi di cose, purtroppo se vuoi avere anche un certo tipo di seguito sul web, devi abbassarti a parlare comunque anche, come fa anche Fabio, che lui parla comunque anche di calcio, perché devi parlare di calcio, di pisda, di quello che è, compagnia varia, cioè semplicemente. Quanto è difficile esporsi, proprio perché il mainstream, quindi tutta questa pantomima, quanto è forte, sono forti, difficile, anche il web sta un po', ci saranno delle restrizioni, cioè il web sarà sempre come lo stiamo vivendo adesso noi nel 2018, o comincia ad essere castrato? Hanno veramente paura del web, il problema è che hanno capito che anche il web, anche il web è molto più oggi influente della televisione in questo momento e purtroppo anche sul web stanno iniziando a comparire un mare di cialtroni oppure gente che fino magari a poco tempo fa cercava di fare un po' di informazione invece sono diventati dei cialtroni, perché si sono venduti al sistema e non fanno più informazione, ma anche loro fanno disinformazione. Dovuto a che cosa? Dovuto sempre a quel discorso, il dio denaro, perché la gente si svende e perché non hanno, non hanno morali, non hanno morali e non hanno dignità. Dignità. Sai a me in tutti questi anni quanto hanno tentato Me lo raccontavi prima. Di zittirmi, di zittirmi. In un video raccontavi anche, mi ricordi in ufficio, che insomma è stato un momento anche duro Ho sempre mollenti duri, non è facile essere l'ambrenedetto, ti posso garantire. Però ti dà anche delle soddisfazioni. No, soddisfazioni no, va bene, soddisfazione ti dà che tanta gente comunque hanno comunque anche i miei video facendo vedere all'estero come si può migliorare. Tu sei un ufficio turistico, tu hai fatto vedere i posti, ma è vero. Sì, bisogna cercare di come poter cercare la felicità in questo mondo di M. Sì. Un saluto a tutti, sennò il video viene troppo lungo. Un saluto, grazie Lambre. Io scusate che sono un po' malaticcio. Sì, il discorso è proprio questo. Come crescere senza il guro del cavolo che anche loro sono venduti al sistema perché ti vendono la loro felicità, che non è la vera felicità e non è la nostra. Ammesso che la felicità sia felice. Io direi che lo parliamo in un altro video. Parliamo in un altro video. Ciao a tutti e viva!